Buongiorno, sono Massimo Fresc, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle ad Ivrea. Sono contento dell'impegno e della preparazione delle donne e degli uomini della mia lista. Le condizioni finanziarie del Comune e della Fondazione Guelpa permettono gli investimenti necessari per rilanciare la nostra città. Il turismo sarà la carta vincente per rilanciare l'occupazione e il commercio cittadino. È necessario quindi recuperare il castello e rendere nuovamente fruibile il centro culturale La Serra per organizzare eventi e manifestazioni. Non lasciamoci scappare l'onda di cambiamento che sta attraversando il nostro paese.